ciao ragazzi ciao ragazzi allora questo qui sarà un video velocissimo lo faccio adesso che sono le 2 e 46 di notte sono tornata adesso da un'uscita con Michele che tra parentesi vi saluto a tutti e volevo fare questo video semplicemente perché non mi è sembrato tanto carino il video che ho fatto prima nel senso sulle vincitrici perché comunque non ho dato spiegazioni di niente mi calbava comunque complimentarmi di persona con persona tra virgolette con le vincitrici quindi complimentissime a tutte e tre le ragazze che hanno vinto il concorso e complimenti comunque a tantissime ragazze che avete visto nelle foto finali mi sono piaciute veramente tanto come vedete stasera come sono uscita ho dovuto coprire l'allergia però non vedrete niente è qua sopra e ce l'ho da lunedì quindi quasi una settimana e sto usando una crema a cotisone non si sa per cosa mi è uscita fuori comunque ok poi ho voluto fare questo video perché tanti ragazzi mi hanno scritto in privato dicendomi che comunque avrebbero avuto piacere nel vedermi comunque perché era già due settimane che non mi facevo vedere di persona e quindi mi è sembrato carino mandarvi questo saluto devo dire che sto meglio cioè lo vedete probabilmente anche anche da me insomma ora parlo un pochino piano perché è un po tardi però insomma sto meglio avete capito ormai quello che è successo quindi non è che mi piace tanto starci starci a marciare sopra sapete che ho purtroppo è morta una persona importante per un tumore quindi è stato veramente un periodo un po un po brutto è morto proprio il secondo il giorno dopo che ho fatto il video quindi è per quello che comunque la mia assenza sarà comunque abbastanza breve da una parte sono felice di questo perché stavo veramente male quindi meglio così adesso sto sto meglio ogni giorno che passa sto un pochino meglio quindi va bene nel senso non non mi sento più male come prima e quindi grazie a tutte voi e a tutti voi che mi avete sostenuto tanto mi avete inviato tantissimi messaggi e tantissimi commenti che ho letto tutti tutto 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 veramente alcuni ce l'ho fatta rispondere ad altri no purtroppo volevo ringraziare tutte le ragazze che mi seguono su facebook perché sono veramente veramente carinissime veramente veramente nel senso leggo tutto e mi fa tanto piacere grazie a tutte le iscritte nonostante il fatto che io non faccia video da un bel po' nel senso regolarmente quasi un mese e mezzo o due mesi che non faccio video abbastanza regolarmente infatti spererei che presto tornerò non lo so ancora di preciso infatti non vi voglio illudere nel senso però piano piano spererei di riprendere piano piano l'andazzo volevo ringraziare anche tantissime ragazze guru se vogliamo chiamare così tutorialista di youtube che mi hanno mandato tanti tanti messaggi di conforto e è stata soltanto una conferma del fatto che tante tante persone cercano di mettere zizzania tra di noi tra noi ragazze ma in realtà cioè non ce n'è nemmeno nemmeno l'ombra di zizzania tra di noi o competizione infatti sono contentissima così veramente e vi ringrazio di cuore ora non vi metto a fare tutti i nomi perché sarebbe una cosa lunghissima comunque grazie per l'affetto che mi avete dimostrato è veramente una grandissima famiglia questa qua di youtube che si sta dimostrando quindi niente ragazze adesso è meglio che vado a dormire e spero che andiate anche voi a dormire perché inizia a essere tardi e niente ragazze spero veramente ragazze e ragazzi spero veramente di tornare presto è una cosa a cui tengo tanto youtube ci sono anche qualche novità che però attualmente non vi posso ancora dire perché non è ancora niente di certo e niente spero di passare con voi ancora tantissimo tempo e niente ci vediamo prestissimo nel prossimo video vi mando un bacione e ciao a tutte vi voglio tanto bene ciao 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 ciao